Conciliazione dei tempi lavoro famiglia nell'organizzazione aziendale. E' questo il titolo del corso di formazione voluto dal tavolo lavoro conciliazione salute delle donne che prenderà il via nel prossimo mese di febbraio. Il corso è rivolto ai datori di lavoro di imprese pubbliche e private allo scopo di attivare modalità innovative nell'organizzazione delle risorse umane a favore di una maggior conciliazione vita lavoro. Conciliazione lavoro e famiglia, un'opportunità per il futuro ma anche un'esigenza. Sì, partiamo dall'esigenza però cerchiamo anche di superare la visione quella essenziale però direi anche un po' troppo solo di base che è quella delle pari opportunità. Quindi non solo per le pari opportunità, non solo per dare più occupazione alle donne che sono cose altrettanto portanti ma per creare un sistema anche di welfare che in parte possa anche partire dall'azienda in cui una persona lavora. Dico persona perché la conciliazione è un problema delle donne quanto dovrebbe diventare un problema degli uomini. Diciamo che gli uomini ancora non se ne accorgono perché loro hanno già dei dispositivi di conciliazione che sono le donne stesse. Quindi fin tanto che le donne provvedono questa esigenza non diventa un'esigenza della collettività. Invece la conciliazione è anche un bene sociale pubblico perché il benessere dei lavoratori e il buon equilibrio fra lavoro e famiglia è un elemento di qualità non solo per la vita personale ma anche sociale. Ecco, il contributo delle aziende però non è solo offerto al welfare inteso come pubblico, come Stato che dovrebbe pensare e organizzare il benessere dei cittadini ma è qualcosa che può riguardare anche un miglioramento innovativo delle aziende perché sempre di più la conciliazione diventa un elemento importante nel management aziendale. Lo dicono i risultati delle aziende quando misurano questo aspetto. Le aziende devono capire che non sono solo costi perché il ricavo che forse è poco monetizzabile e poco misurabile è comunque quello che danno beneficio alle aziende, ai lavoratori e quindi ne prende beneficio diretto anche alle aziende. I lavoratori dicono che a volte quando lavorano, quando hanno una base lavorativa un po' sicura è molto più importante avere dei benefici di welfare aziendale piuttosto che di avere degli aumenti contrattuali quindi diciamo che è importante anche per i dipendenti. Dunque affronteremo innanzitutto il tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle sue caratteristiche generali per far comprendere ai partecipanti siano essi datori di lavoro di enti pubblici o di aziende private o rappresentanti delle associazioni di categoria o rappresentanti sindacali quanto lo squilibrio tra i tempi di vita e di lavoro possono provocare stress e disagio nell'ambito lavorativo e sono causa anche di disaffezione a volte per non parlare addirittura di rinunce alla propria occupazione. Quindi il primo passaggio è comprendere la natura di questo problema. Il secondo tema che affronteremo è invece a che vedere con le soluzioni che possono essere messe in campo dai diversi soggetti e in particolare dalle aziende, dalle imprese, quindi dai datori di lavoro e il terzo passaggio che affronteremo riguarda gli strumenti, vale a dire le possibilità che i datori di lavoro in particolare privati e anche i lavoratori autonomi hanno per mettere in campo delle soluzioni conciliative vale a dire di maggiore equilibrio tra i tempi che dedichiamo al lavoro e i tempi che dedichiamo a noi stessi e alla nostra famiglia. Questi sono gli argomenti. Grazie 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 Grazie